Certo che c'è Nobili che si staglia sul Montecitorio e effettivamente è nata abbastanza bene per Italia Viva sta partita del Quirinale, sai che anche la Ghisleri, che è una donna giusta, ha detto che ve la siete cavata bene Nobili Ah beh, se lo dice la Ghisleri allora siamo a posto veramente Ah mi capisce Fichi La Ghisleri è un'osservatrice molto attenta e molto sempre precisa nei suoi votazioni Insomma il Renzi che spacca sempre tutto in questo caso di Cusciva Ma poi l'importante è che se la sia cavata l'Italia, che c'erano così tanti apprendisti stregoni che per fortuna sono rimasti col pentolone acceso ma senza risultati Eh, vabbè mi siete messi pure a difendere Di Maio, ma come sta cambiando il mondo Nobili? Di Maio piano piano si accorge di tutte le cose che non andava Si è accorto che Mattarella è uno straordinario presidente, ne aveva chiesto l'impeachment Si è accorto che il giustiziarismo non è una buona cosa Si è accorto adesso anche che le shitstorm in rete sono proprio una cattiva cosa Quindi scusi per capirci Nobili, per voi Italia Viva, Conte e Di Maio non sono pari Non sono pari, cioè nel senso che Di Maio è un interlocutore affidabile e Conte meno No, mettiamola così, allora Di Maio ha cambiato idea su tantissime cose E sono benvenute i suoi cambi d'idea, andava con i gilet gialli e ora sostiene Macron Gli altri li ho già elencati, di questo passo, diciamo Di Maio diventerà un interrogutore assolutamente credibile Sta facendo il ministro degli esteri assolutamente bene, è una figura istituzionale che ormai è assolutamente riconosciuta Il giudizio su Conte è quello che sa, quindi non è che mi devo ripetere E peraltro Conte non ci ha dato occasione per essere smentiti Perché ai signori che lo considerano il punto di riferimento fortissimo dei progressisti Ha dato due altre cosciente delusioni provando in due diverse occasioni a mettersi d'accordo con San Vino Si sveglierà dal sogno Letta Non lo so da questo incantesimo, non so cos'è che tiene il PD irretito a questo amore non corrisposto Ma intanto siete pronti a dare il benvenuto a Silvio al centro? Che Berlusconi vuole fare il centro Ma diciamo, noi non vogliamo fare il centro Noi vogliamo dare corpo, forza, gambe a un'area centrale, riformista Che come diceva prima da Milano voglia portare avanti l'agenda Draghi Perché guardi le tante difficoltà di queste settimane Anche rispetto alla possibilità che Draghi salisse al Quirinale O alla proseguita la sua attività di governo Sono figlie del fatto che ci sono tante forze Che con una bella dose di ipocrisia sostengono il governo Draghi Perché non ci sono alternative Ma che in realtà non condividono una virgola dell'agenda Draghi Noi siamo quelli che lo sostengono e che l'hanno chiamato in campo Perché crediamo in quell'agenda E crediamo che debba andare avanti fino al 2023 E se possibile anche oltre Ci vorrà una rappresentanza politica solida Scusa, il PD li è gruppo a parte Di quelli che lo sostengono davvero o solo a parole? Non l'ho sentito, mi perdoni Dicevo, il PD di che gruppo va a parte? Di quelli che sostengono davvero Draghi O di quelli che lo sostengono solo a parole? Il PD si ritrova il suo DNA originario Sicuramente tra quelli che condividono le idee di Draghi E buona parte di quell'agenda Il PD che si è convertito a reddito di cittadinanza E a Giuseppe Conte, leader progressista Non lo so Vabbè Allora, Vittorio Vedevo che non eri d'accordo su Di Maio